Quest'oggi spendo i primi 10 minuti o 15 a parlare dell'esame, quindi orecchia aperte. Allora, partiamo dal fondo. Le prime due date d'esame, cioè quelle della sessione invernale, dovreste averle previste per il 5 o il 19, il primo appello è il 5 febbraio, il secondo appello è il 19 febbraio. Voi forse sul vostro calendario vedete due date possibili, 5, 6 e 19, 20, forse mi avevano raccontato che gli studenti vedevano questo. Vi spiego come funziona. Noi avremo tutti i corsi, diciamo quelli di informatica, divisi a turni. Quindi abbiamo prenotato i laboratori per gli esami per due giorni consecutivi. Quindi ci sarà metà di voi che farà l'esame nel primo giorno, voi intesa come insieme totale degli studenti, ok? E l'altra metà nell'altro giorno. Noi riusciremo a fare i turni e gli accoppiamenti, per dire, solamente all'ultimo momento, nel senso che solamente quando avremo l'elenco completo di tutti i prenotati. Ok? Quindi voi vi potete prenotare fino al 30 gennaio. Noi fino al 30 gennaio non sappiamo esattamente quante persone ci saranno di ciascun corso. Dopo il 30 gennaio, in modo relativamente rapido, tipicamente un giorno, un giorno e mezzo, anche perché ci fanno già delle simulazioni prima, siamo così, il gruppo di colleghi che se ne occupa, entro un giorno o due definiremo esattamente il calendario dei turni. Quindi, di quei due giorni che sono indicati nel calendario degli esami, sarete impegnati solamente un turno di un'ora e mezza in uno dei due giorni. Non vi so dire ancora adesso se sarà effettivamente il 5 o il 6 e se sarà alle 8 del mattino o alle 5 del pomeriggio. Ok? Quindi questo, tenetevi liberi, sapete che non sarete impegnati, non è un esame maratona come qualche altro esame che è composto di 7 parti diverse, no? È un esame secco, un'ora e mezza, si entra, si esce e possibilmente non si rientra più perché l'avete passato. Quindi questo è, come vedete anche l'aula non è ancora indicata perché ve lo diremo. L'esame sarà un esame in laboratorio, gli stessi laboratori in cui stiamo facendo le esercitazioni settimanali, su quei computer, quindi non dovete portare il vostro computer, usiamo quelli dei laboratori, andiamo su tanti turni, in modo da proprio, semplicemente, poter sfruttare le postazioni di laboratori che ci sono. Sapete che le regole del Politecnico dicono che gli appelli sono tutti indipendenti l'uno dall'altro, quindi potete venire al primo data o alla seconda, o se vi va la prima anche alla seconda, no? Quindi se c'è qualche collega che vi dice, no ma se non passi il primo appello non puoi venire al secondo, aspettatelo fuori perché non può dirlo, e quindi ci sarà un periodo di ansia abbastanza forte dal giorno dopo del primo appello fino all'avvicinarsi al secondo appello, ansia per voi e per noi, perché noi avremo, adesso sono 176 prenotati, nel frattempo aumenteranno ancora, e i prenotati che sono scritti lì corrispondono a compiti da correggere, quindi ci vuole un certo tempo che potete immaginare, questo tempo si misura in giorni, prima che noi riusciamo a darvi i risultati del primo appello. Qui quello che cerchiamo di fare è, ci sono due settimane, 15 giorni contati, giorni, anzi 14, ci siamo fatto questo regalo, giorni contati dal primo e secondo appello. Quindi in questi 14 giorni cosa deve succedere? Deve succedere che noi verifichiamo i compiti, diamo un voto, pubblichiamo questi voti, ok? E vi diamo la possibilità di capire, diciamo così, la motivazione del punteggio che vi abbiamo dato, ok? Quindi poter a valle del voto chiedere cosa ho sbagliato, ma qui perché mi hanno messo questa valutazione, oppure farsi spiegare gli errori, ci sta, prima di poter decidere se iscrivervi o no o secondo appello. Ok? Quindi questo sarà tutto abbastanza incastrato, poi nel frattempo voi avete gli altri esami, quindi tranquilli che l'ansia non va via. E dopodiché, se il secondo appello sia un pochino più rilassato come tempi, primo perché normalmente ci sono numeri un pochino più bassi, secondo perché non ci uccide nessuno, se sforiamo di un giorno o due, tanto poi cominciano le lezioni nel secondo semestre, ma non c'è una scadenza entro la quale assolutamente bisogna registrare i voti. Voi sapete che dopo la registrazione, allora noi normalmente quello che io faccio è, il compito è fatto di tre domandini di teoria e un programma. Ok? Da svolgere. Le tre domande di teoria valgono complessivamente sei punti, ok? Il programma vale complessivamente 27 punti, quindi la somma chiaramente fa un 30 molto abbondante. Le domande di teoria sono più facili, nel senso che normalmente il giorno stesso dell'esame, quello che io faccio quando voi consegnate l'esame, io vi mando, vi faccio vedere. Così poi potete andare a casa a riguardare, ho scritto bene, ho scritto male, ho scritto una stupidaggine, eccetera. Sia per la parte di programmazione che per la parte di teoria. Per la parte di teoria, tipicamente il giorno stesso vi mando già le soluzioni, le soluzioni corrette quali sono, così le potete confrontare. Per la parte di programmazione, come sapete, le soluzioni non vogliono dire nulla, nel senso che io chiaramente l'avrò preparata la soluzione, ve la posso anche dare, ma non è che vi serve per riuscire a capire, perché magari l'avete fatto in modo diverso, per riuscire a capire come l'avete fatto, se bene o male. Quindi questo dovete aspettare la correzione vera e propria. Quindi quando avrò corretto e metto fuori i voti, normalmente cerco di mettere qualche commento super sintetico, perché dovendo fare 250 correzioni in 8 giorni, non posso dilungarmi e raccontarvi troppe cose, ma per punti cerco di identificare quelle che sono le criticità, diciamo così, nel vostro compito. A questo punto, una volta che pubblico i voti, chiaramente se qualcuno ha bisogno di chiarimenti, noi siamo disponibili. Dopo questo periodo, diciamo così, tra la pubblicazione dei voti, abbiamo qualche giorno di tempo, a questo punto passeremo a registrare ufficialmente il voto, chiaramente se è sufficiente. Nel momento in cui registriamo il voto ufficialmente, vi dirò poi nei vari messaggini, la data esatta in cui lo faccio, voi avete ancora 48 ore, se non sbaglio, per eventualmente rifiutare il voto. Questa è una novità del Politecnico, da quest'anno, da questa sessione, prima non si poteva fare, non c'era questo automatismo, quindi voi vedrete il voto pubblicato e per 48 ore potete lasciare un bottone che, anche qua, aumenta l'ansia sempre, che vi chiede se intendi rifiutare questo voto, solamente se è sufficiente. Dopo passate queste 48 ore il voto diventa definitivo, irrevocabile, è quello che vi abbiamo dato e vi abbiamo dato. Quindi questo da un lato semplifica la nostra interazione, perché voi non dovete dire a me no, ma io voglio rifiutare, allora io devo cancellarvi il voto, eccetera, viene tutto in automatico, però viene, diciamo così, in quei due giorni, no, esattamente blindati. Semplicemente sarà una serie di fasi, no, che si concludono con la registrazione definitiva del voto. Le prenotazioni, avete visto che non vi potete prenotare al secondo appello se siete già prenotati al primo, ma non vuol dire che non potete farli entrambi, vuol dire che non potete avere più di una prenotazione attiva contemporaneamente. Quindi se per caso il 5 fate il corso, vi va storta perché quel giorno avete mal di testa, il giorno dopo potete già prenotarvi per l'appello successivo, semplicemente finché la prenotazione precedente è vigente, in corso, non vi potete prenotare per il secondo. Ok, questo dal punto di vista cronologico. Poi quel giorno lì cosa succede? Quel giorno lì succederà che sarete, siamo chiamati in un'aula a una certa ora, facciamo l'appello all'ingresso, quindi ricordatevi il tesserino di riconoscimento e allora esatta inizia, vi sedete il calcolatore, uno per pc, allora esatta potrete entrare nella procedura di esame direttamente dal vostro portale della didattica. qui dove c'è carico didattico e queste cose qua, in punta spunterà una voce che dice adesso c'è un esame in corso, cliccate su entra nell'esame e vi fa entrare. L'esame si svolge sulla piattaforma Moodle, che era, forse qualcuno degli altri corsi l'ha già usata, se avete fatto gli altri quiz degli altri corsi che fanno gli esami a piccole dosi, l'avete già vista, questa modalità, la piattaforma che usiamo per erogare i quiz. La parte di informatica è un pochino diversa perché c'è da scrivere un programma. Allora vi faccio vedere cosa dovrete, ma cosa potete già fare adesso. Guardate questa che è la mia versione. Allora voi all'interno, se entrate dentro l'informatica, nella vostra parte di carico didattico, dovete trovare una cosa che si chiama Moodle e ci sarà un bottone, non è fatto come la mia ovviamente, ma che è qualcosa tipo accedi alla piattaforma Moodle. Questa è una piattaforma parallela rispetto a quella, dovete entrare prima nel corso di informatica e poi accedi a Moodle, che è una piattaforma parallela a quella del portale, dentro cui c'è una cartella che si chiama Informatica 2023-2024, che non vi ho mai citato, perché in realtà contiene le slide, i laboratori che già noi abbiamo sul mio sito, però questa cartella è condivisa tra tutti i corsi. Adesso passo in modalità studente, così, e quindi se voi entrate in questa pagina Moodle, questa è la pagina per le esercitazioni, quindi quella dell'esame sarà uguale, solo più, diciamo così, blindata come accesso. Questa è libera, entrate nel corso, Informatica Moodle e vi trovate in una cosa di questo genere. Allora qua abbiamo già caricato un esempio di tema d'esame, di come, quasi come comparirà all'esame vero e proprio. Funziona così, voi entrate, ci sono in realtà due quiz, uno libero, test Crown Labs libero. Crown Labs è la piattaforma cloud su cui facciamo gli esami, che è stata realizzata proprio qua da colleghi del Politecnico. E quest'altro invece è un tema d'esame già con un testo, un testo è una soluzione. Partiamo da questo che è più vicino a quello che si vede all'esame. Se voi entrate qua avrete un quiz, la prima volta ci sarà scritto tenta il quiz, le volte che succede io l'ho già provato prima per vedere che funzionasse, in questo caso c'è scritto ritenta, voi potete entrare nel quiz, questo, anche l'esame succede così. Entrate all'esame, a un certo punto schiacciate il bottone, entra nell'esame, entra nel quiz e in quel momento partono i 90 minuti di tempo che avete. Quindi se avete casino col computer, accendolo, dimenticate la password eccetera, non agitatevi, l'importante è che siate pronti nel momento in cui cliccate questo bottone. Adesso qua essendo solo un'esercitazione non c'è il tempo, ma altrimenti qua a sinistra vedreste un timer che si decrementa. O a destra forse l'ha modificato. In questo caso, poiché è un esempio, c'è solo una domanda che è il programma da svolgere. Nell'esame vero ci saranno qua non una domanda, ma quattro domande, uno, due, tre di teoria, la quarta di programmazione, più una quinta domanda fasulla, nel quale voi dovete scrivere ritirato se volete ritirarvi, oppure non scrivere niente se volete consegnare, perché purtroppo Moodle non ha una funzionalità per dire mi ritiro o non consegno. Una volta che sei dentro devi consegnare, però se si vedi che, se ti accorgi che non hai fatto bene, puoi decidere di non consegnare, per far questo c'è una casella, una domanda aggiuntiva in cui se volete ritirarvi scrivete dentro ritirato. E noi non coraggiamo il compito, altrimenti lo coraggiamo, non capita nulla, al massimo vi diamo zero. E poi ci sarà un'altra pagina dalla quale potete trovare il foglio con le funzioni, quindi il pdf del foglio con tutte le funzioni che potete sia consultare online, sia portarvi stampato. L'unica cosa che potete portarvi all'esame sono il foglio con le funzioni, dei fogli di brutta su cui disegnare, scarabocchiare, pensare all'algoritmo e chiaramente una penna, una gomma, quello che è, per scrivere su questi fogli bianchi, no? Di brutta. Poi, rispondere alle domande di teoria, semplicemente dovete scrivere la risposta, non c'è nulla da spiegare. Per la parte di programmazione vi trovate il testo, qui è un esempio di un testo che se volete poi nella grazia di Natale potete provare a fare, lo vi ho messo apposta perché possiate provarlo. e poi c'è un bottone accedi all'istanza crownlapse, che è molto complicato di dire apri Python, apri Visual Studio Code predisposto su questo esame. Allora se io clicco qua, e lo potete fare anche voi tranquillamente, lui mi apre un altro tab nel mio browser, quindi ho un tab col quiz e un altro in parallelo con un'istanza di Visual Studio Code, dentro la quale vedete già un progetto parzialmente costruito, nel senso che c'è già un file main e ci sono già pronti i file di testo con cui dovrete lavorare, quindi non c'è da fare copia e incolla o altro. e normalmente questo file main cosa fa? Prende i file e li stampa a video, giusto per vedere che tutto funzioni, quindi se fate Run vedete che lui stampa a video esattamente il contenuto dei file che ci sono qua, questo è generato automaticamente. Voi vi trovate qua dentro e potete scrivere il vostro programma, questo è un VS Code normale, semplicemente gira dentro il browser, gira dentro il quiz, non dovete aprirlo sul computer localmente, come facciamo nei laboratori, perché questo, di fatto ciò che voi scrivete qua dentro, dentro questo file main.py viene poi consegnato automaticamente, salvato automaticamente. Quindi voi durante l'esame potete usare solamente questa finestra qua con i quiz, questa finestra con Python e la terza finestra che si apre con il foglio con le funzioni. ci sarà anche la possibilità di consultare la documentazione ufficiale di Python, docs.python, che ci sarà il link per poter andare a leggere, non altri siti ma quello ufficiale di Python sì. Gli altri siti sono bloccati durante l'esame, non potete navigare su Google o fare altre cose. niente, qua non c'è nulla di speciale, nel senso che qua normalmente scrivete il codice, salvatelo, potete testare, potete fare debug, come se lavorassimo normalmente sul nostro computer. Semplicemente questo sta girando su una macchina in cloud che è gestita direttamente dai servizi informativi del Politecnico. scrivete questo, avrete il tempo che si decrementa, quindi non avete 90 minuti di tempo che sono indistinti, potete fare prima la teoria, poi la programmazione, un po' un po', è uguale, non ci sono dei tempi divisi per le due parti e alla fine, quando avrete finito, questo file qui chiaramente lo dovete salvare e quando avete finito di lavorare c'è il bottone, alla fine termina il tentativo, che di fatto consegna l'intero lavoro di teoria e programmazione. Se per caso lavorate fino all'ultimo secondo, non preoccupatevi perché sia le domande di teoria sia il programma vengono salvati in automatico, cioè scusate, vengono consegnati in automatico, viene consegnata l'ultima versione che avete salvato, quindi fate attenzione, se scrivete qualcosa ogni tanto fate salva, ok? Se fai il run ovviamente lui lo salva automaticamente, vedete che c'è sempre il pallino qua bianco che ti dice attenzione che c'è qualcosa da salvare, e per salvarlo o fate il run oppure fate il solito ctrl s, oppure qua file salva, l'ultima versione salvata qua dentro è quella che allo scadere del tempo viene automaticamente consegnata, e basta, poi da quel momento in poi siete liberi, e noi vedremo potremmo cominciare poi a correggere le cose. Quindi l'ambiente d'esame è esattamente uguale a quello che, tra l'altro qua sotto c'è anche una console quindi se dovete provare dei programmi Python, è esattamente come facciamo qua in aula, ok? Né più né meno. Poi quello che succede è che il programma che voi consegnate verrà salvato di fatto in un file zip che poi noi prendiamo e correggiamo, ma quello stesso file che viene consegnato voi ve lo potete scaricare, lo potete vedere dalla cartella, dalla funzione elaborati della vostra pagina sapete che c'è una parte, consegne elaborati in cui potete caricare gli elaborati e darli al docente questo esame viene automaticamente caricato lì sopra, quindi potete arrivare a casa e scaricarvi il vostro programma provarlo, eccetera. C'è una domanda, dimmi. Qui è tutto in una cartella unica, quindi non c'era bisogno di fare impostazioni particolari quindi dovrebbe funzionare perché i file, per semplicità, abbiamo un main e i file nella stessa cartella non aprite progetti su altre cartelle, tipo, che so, apri cartella, lo potete fare ma poi non viene consegnato viene consegnato questo progetto qua, quindi dovete lavorare dentro questo file main, dentro questo progetto dovete farvi dei fileetti di prova per fare cose, fateli pure, ma noi andiamo a vedere ciò che c'è nel file main ok? Quindi non dovete fare né il nuovo progetto, né apri il nuovo cartello, eccetera, lavorare direttamente qua dentro dove vi viene lasciato. Nel caso in cui ci fossero dei problemi, non dovrebbero perché sono gli stessi computer che usiamo sempre, qua abbiamo messo come ultimo commento tutti i caratteristiche speciali che potete usare, quindi se avete bisogno, non sapete come fare la backslash su quella tastiera lì perché sono tutte tastiere italiane, quindi sono uguali a quelle che usate, lo potete prendere qua a fare copia e incolla perché magari a volte c'è qualcuno che non sa la combinazione di tasti o non è abituato a quella tastiera per il laboratorio, magari usano un Mac, eccetera. Quindi anche qua abbiamo cercato di eliminare il più possibile gli ostacoli che potete incontrare. Ecco alla fine fate termine al tentativo, c'è ancora, ci sarà un riepilogo, vabbè invia e termina e a questo punto, chiede il nuovo ancora una volta e a questo punto, in questo caso l'esercizio è finito. Qui c'è scritto che non carica i contenuti e quindi ciò che ho fatto adesso è stato perso, ma siamo solo in modalità esercitazione, in modalità esame invece viene salvato. In modalità esercitazione, se volete provare potete benissimo fare copia e incolla del testo da qua su un file locale per poterci continuare a lavorare. Ok, questo è quanto per la procedura d'esame. Io quello che vi invito a fare è sicuramente in queste settimane provare a svolgere questo esercizio oppure magari gli artisti che fate per conto vostro li potete fare dentro questa pagina Test Crown Labs che è la stessa cosa dell'altro, quindi entro come quiz, accedi all'istanza, mi crea la pagina, mi crea il Visual Studio Code, con la differenza che mi crea un progetto vuoto, senza già i file dentro e quindi senza nessun testo da risolverlo, potete usare come editor così, no? Magari sei in vacanza dai parenti, non c'è il Visual Studio Code installato, ma in un browser puoi... dai piccio vai, non farmi fare brutta figura, eccolo qua, vedete che c'è un main.py con scritto niente dentro, scrivete qua il codice, quindi lo potete testare. È importante che lo testiate tutti, così sapete già come funziona, come evitiamo problemi o sorprese nell'ultimo momento all'esame. L'altra cosa che dovete avere all'esame è ricordarvi la vostra password, non sapete quanta gente arriva all'esame e dice, ma io non so il mio password, perché memorizzata nel browser, quando la devi scrivere nel computer del laboratorio, gente che va in panico e comincia a scartabellare biglietti nella borsa, cose strane, no? Quindi questo anche vi serve poi all'esame. Poi ci sono quelli che non ricordano neanche la matricola, ma questi... Ok? Poi, tornando sempre al ritroso nel tempo, prima di prenotarvi voi sapete che avete dovuto compilare il questionario di fine corso, il questionario di gradimento insomma, il codice CPD, ho chiesto adesso i dati, sono abbastanza buoni, mi hanno detto che circa l'83% di persone ha compilato, bella forza, essendo obbligatorio, è facile avere delle buone percentuali, ma a parte questo a me interessa tantissimo quello che avete da dirmi all'interno del questionario, quindi al di là delle domande con la risposta numerica c'è il campo testuale in cui spero che abbiate scritto suggerimenti, critiche o osservazioni rispetto al corso, perché è l'unico modo per poter in qualche modo cercare di migliorare quello che facciamo. Però sto parlando probabilmente a quelli che non hanno già compilato, quindi ormai è troppo tardi, non per dirvi aggiungete qualche cosa, ma se avete qualcosa da aggiungerlo potete sempre fare nelle varie modalità palesi o anonime di comunicazione. Torno ancora indietro del tempo, arriviamo alle ultime settimane del corso, allora oggi chiaramente cerchiamo di finire o arrivare ancora un po' più avanti sugli ultimi argomenti in modo da potersi mettere in grado di svolgere gli esercizi che siano della complessità dei temi di esame. Oggi e domani c'è ancora il laboratorio tradizionale, l'ultimo laboratorio, il laboratorio 11. Dopodiché, dopo le vacanze, io continuo a cercare di dare queste consulenze a lunedì, ma le lezioni saranno organizzate in modo leggermente diverso. Lunedì 8 gennaio facciamo questa lezione sull'architettura degli elaboratori, che è il capitolo T2 del slide, se avete fatto le domandine con le natalizie ogni tanto ne saltava fuori qualcuna, quindi magari siete già andati a sbirciare. E poi, a parte quest'ora e mezza del lunedì, tutto il resto del tempo, quindi tre ore del mercoledì e tutte le quattro ore e mezza dell'ultima settimana faremo esercizi di esame, insieme in aula così. Gli esercizi di esame sapete che sono già tutti pubblicati qua, sotto questa cartella esame, esempi esame, c'è questa pagina in cui ci sono tutti gli esami, praticamente diciamo sono tantissimi, sono tutti quelli dell'ultimo anno, degli ultimi due anni e alcuni ancora più vecchi, quindi io accetto anche suggerimenti su se provate a fare questi esercizi qua, ma questo non è venuto, possiamo vedermi insieme, visto che dedichiamo 10 ore o giù di lì, che è il 10% del corso, se pensate a fare esercizi di esame, faccio quelli che mi suggerite, non ho problemi. Questa è la settimana 13 e 14. Gli laboratori delle ultime due settimane invece sono diversi, il laboratorio della settimana 13, cioè quello del 9 e 10 gennaio, faremo una simulazione d'esame su Crownlabs. Quindi andiamo in laboratorio, però il testo d'esame non lo vedete, non ve lo mettiamo a disposizione in pdf come al solito, ma ve lo trovate dentro la piattaforma Crownlabs in modo da simularli più possibile il meccanismo dell'esame, quindi troverete le domande, cioè troverete un quiz esattamente strutturato come quello che troverete all'esame. Quindi questo qua secondo me è una doppia allenamento, sia sul provare in un'ora e mezza a fare un compito della stessa difficoltà di quello che troverò all'esame, così vi misurate anche con i tempi, sia anche con gli strumenti, cioè fare esattamente con gli stessi tool che avremo all'esame. Quindi è fortemente consigliato provarci, poi all'esame non si accettano la mente del tipo io non so come si usa questo, ma non sono mai venuto a provarlo. Dimmi? Scusa? Questa simulazione sarà corretta? Buona domanda. Diciamo che correggere tutti quelle che sono consegnate lo vedo abbastanza impossibile con i tempi, ma però visto che l'avete fatta, se avete dei dubbi sia in quel momento che dopo, le possiamo discutere. Quindi sì, sicuramente possiamo dare farvi dei feedback a chi ha delle difficoltà. La correzione la faremo in aula, nel senso che io farò una correzione, non riesco a fare la correzione di tutti, ma nell'occasione in cui faremo la correzione in aula, se qualcuno dice ma io l'avrei fatto in questo modo, lo discutiamo volentieri. Quindi uno sicuramente degli esisti d'esame, questa qua, il 15 gennaio sarà proprio la correzione in aula del laboratorio della settimana precedente. L'ultima settimana i laboratori non lo facciamo, facciamo invece una cosa che ha avuto sempre successo negli ultimi anni, la maratona di teoria. Facciamo tre lezioni online, negli orari del laboratorio, nelle quali mi metto a risolvere a raffica il più possibile di esercizi che sono usciti sempre per esempio ai temi d'esame, che sono usciti per quanto riguarda le domande di teoria. Adesso qua, nei temi d'esame ci sono tutta la parte di programmazione, ma se scrollate fino in fondo ci sono i quesiti di teoria. La prima domanda è sempre sui numeri, la seconda, quindi capitolo T1. La seconda domanda è sempre sulle architetture, quindi capitolo T2. La terza domanda è sulla programmazione, più dal punto di vista della teoria, di come funziona il linguaggio, eccetera. Qui ci sono le domande che sono uscite, quindi tipicamente in queste lezioni la prima farò un'ora e mezza di esercizi sulla prima domanda, sulla seconda e sulla terza. Normalmente quello che faccio è parto dall'ultima in fondo e torno indietro perché le ultime sono quelle più recenti, che sono uscite nell'ultimo anno e quelle più indietro se proprio uno curioso va a vedersi i video dell'anno scorso in cui ho fatto la stessa operazione. Quindi queste cose qua, io le faccio come lezioni online, qui c'è già il link e tranquillamente potete anche interagire ovviamente durante gli esercizi. Se avete già provato a farli, l'idea è appunto partire dagli ultimi che sono elencati in questi temi, ne prendo uno qua, il territorio dei laboratori, ci sono 50 domande, io partirò dal 50, 49, 48, le facciamo insieme e le svolgiamo. Così abbiamo una sorta di ripasso di tutta la parte di teoria negli ultimi giorni del corso. Ok? Dubbi su queste parti qua, esame, modalità, meccanismi eccetera? No? Ok, perfetto. Allora ritorniamo a fare quelle più divertenti.